Un incontro con il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore del Comparto Agricolo, per individuare tutte le possibili azioni, sia a titolo di indennizzo dei danni causati dalle avversità atmosferiche alla produzione primaria del comparto agricolo, sia a titolo di valorizzazione, tutela e promozione dei prodotti agricoli, che non si limitano a un unico settore, ma interessano l'agricoltura nella sua completezza e varietà. A chiederlo gli agricoltori della Valle Peligna, della Valle del Tirino e di Navelli. Riteniamo necessaria un'implementazione tra agricoltori, politica locale, regionale, nazionale e comunitaria, affermano gli agricoltori, poiché è di solare evidenza che l'integrazione delle esperienze dirette insieme alle opinioni degli altri soggetti interessati può servire per adattare in maniera più precisa le politiche alle esigenze e alle opportunità reali, tese sempre al rispetto del principio paritetico di ogni settore del comparto agricolo. L'incontro si terrà venerdì 3 giugno dalle ore 17 nei locali del centro pastorale in Viale Roosevelt a Sulmona.